Onorevole Ermellino, sono state evidenziate le enormi potenzialità del territorio ionico a tutti i livelli, a livello di risorse naturali, a livello di patrimonio archeologico e quant'altro. E poi assistiamo a certe mutilazioni che subisce il territorio, vedi lo spostamento alla Maddalena del corso WFP1, mille allievi nocchieri di Porto vedono il loro trasferimento, questi corsi vedono il loro trasferimento alla Maddalena. Taranto mutilata. Innanzitutto salve a tutti, non è una Taranto multilata ma semplicemente si tratta di due corsi marginali, quelli di nocchieri e quello di tecnico macchine che verranno spostati alla Maddalena per motivi logistici perché stanno aumentando i numeri dei volontari in ferma prefissata e inoltre verranno attivati dei corsi altamente specializzati per formare chi verrà inviato in missione in Qatar. Però non per strumentalizzare ma gli operatori economici, penso ai bed and breakfast, penso ai ristoratori hanno denunciato cifre alla mano un danno di un milione di euro. Allora in un momento difficilissimo che vive la città di Taranto questi tagli non possiamo permetterceli. Ma ovviamente, ma non si tratta assolutamente di tagli e le cifre che sono state citate, onestamente io ho chiesto riscontro anche a queste persone di questi numeri ma sono cifre onestamente basate forse più su dati ipotetici. Mi perdoni, per ogni allievo ruotano intorno all'allievo 10 persone, farenti, amici che vanno i vari giorni. Io sono d'accordo con lì, se posso completare. A me non risultano questi numeri, proprio per questo, guarda, gli dico di più, sto aspettando una scheda dal Ministero proprio questa settimana, in modo che, perché io sono stata contattata giustamente perché Taranto vive anche di questo tipo di economia basata su questo giro creato intorno ai corsi, ma io sono d'accordissimo e benvenga perché aiuta un territorio che è già in sofferenza. Questi numeri però vanno verificati per non creare un terrorismo in delle associazioni che vivono di questo. No, non è terrorismo, non fosse anche un milione di euro, ma fossero 500 mila euro, fosse anche un centesimo. La gente, se io vado a trovare un allievo militare e porto con me, e con me vengono 5 o 6 persone, si dà il caso che devono andare a mangiare, a bere e dormire. Quindi i ristoranti, gli alberghi, i bed and breakfast, così non sarà più. Non è vero. Se vanno via... I numeri non dicono questo. Mille persone non ci saranno più. No, non sono assolutamente questi numeri. Io, sarà mia premura, guardi, inviare a tutti gli organi di stampa, le televisioni, una volta avuta la scheda, ottenuta la scheda con i dati ufficiali, perché quelli che mi sta dicendo non sono dati ufficiali, una volta... La marina della... Mi sono già confrontata con l'ammiraglio Rastrelli, che si occupa delle scuole e non risultano questi numeri da nessuna parte. Allora, è un'invenzione collettiva? Magari sono dei timori basati su delle cifre che però non sono verificate. Io le posso assicurare... Lo spostamento ci sarà? Lo spostamento di due corsi ci sarà, ma... A settembre già 500 allievi in meno? No, non sono 500 allievi in meno a settembre. 490? No, assolutamente no. E quanti? Sto aspettando la scheda dal Ministero. Non sa se sono 500 o meno. Sono questi numeri. Verificheremo. Io sono una persona seria. Nessuno lo mette in dubbio. Non faccio numeri che sono basati su delle ipotesi. Io non appena avrò la scheda, sarà mia premura incontrare tutte le associazioni che mi vorrebbero parlare perché sono state spaventate da queste cifre. E sarà mia premura a spiegare loro come stanno davvero le cose. E sarà mia premura a spiegare loro come stanno davvero le cose.